Questo tipo di dispositivo può essere utile anche per la ripartenza della scuola a settembre? Assolutamente sì, questi strumenti ci permettono e dovranno essere inseriti all'interno delle scuole perché le scuole devono ripartire, questa è una priorità che ci dobbiamo porre tutti. Dobbiamo però anche ripartire in sicurezza e questi strumenti ci permettono di misurare la temperatura, controllare la mascherina, controllare gli afflussi, quindi assolutamente abbiamo bisogno di strumenti che ci permettano di riaprire le scuole. Ce ne sono di vari tipi per vari istituti pensati in base al numero di studenti che devono accedere. Alcuni strumenti sono fatti per analizzare una persona alla volta, altri sono pensati per i grandi flussi, quindi per i grandi istituti con mille, mille cinquecento persone. Questo tipo di strumento qua che cosa consente di fare? Ce lo puoi proprio dettagliare nei vari passaggi? Allora, lo strumento palmare, che è uno dei tanti, riesce a misurare la temperatura, questo lo fanno tutti, riesce a controllare se indossiamo la mascherina, addirittura se la indossiamo nel modo corretto perché se noi ci avviciniamo con la mascherina abbassata il palmare non ci dà il consenso. È in grado di gestire un barco, con barco intendo una qualunque apertura, una porta, un garage, un cancello, tutto quello che vogliamo e sarà in grado in futuro di poter dare questi accessi grazie al riconoscimento facciale. Quindi questo è il riassunto della funzionalità dello strumento. Quindi anche diciamo in assenza di contagio a livello proprio preventivo, questo potrebbe essere molto utile? Assolutamente sì, assolutamente sì. In più, rispetto agli altri strumenti, questo qua, essendo in grado di gestire un barco, è in grado di farlo in maniera autonoma, quindi senza bisogno di un operatore. Gli altri hanno bisogno invece che la temperatura venga controllata oppure venga visualizzata ad esempio in remoto da un controllo.